Sale la febbre di giostra ad Arezzo, questa è la settimana dell'estrazione delle carriere, la cerimonia che decreterà l'ingresso in piazza dei quattro quartieri e l'ordine con cui affronteranno il re delle Indie domenica 4 settembre. Intanto ha preso il via il montaggio delle tribune in piazza grande, sotto gli occhi e le macchine fotografiche anche dei turisti. Per due settimane la piazza più bella di Arezzo cambierà volto in vista dell'evento più atteso dagli aretini. Il buratto come sempre è intanto passato dalle mani del dottor Enzo Scartoni che ha messo a punto i meccanismi dell'automa in vista del debutto. Sabato prossimo 27 agosto sarà presentata la nuova lancia d'oro, il giorno seguente alle 11 l'estrazione delle carriere e da lunedì prove in piazza. Venerdì 2 settembre è prevista la prova generale, sabato 3 le cene propiziatorie e domenica 4 sarà finalmente giostra. Intanto giovedì 25 agosto è in programma l'atteso Click Day che permetterà di prenotare online il proprio tagliando da ritirare poi con appuntamento presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra. Si parte alle 15, sarà possibile accedere registrandosi e compilando il form che permetterà di prenotare 4 biglietti al massimo a persona. 25, 25, 25, 25!